Siamo con l'Uzai Adio Bangu, il nuovo acquisto del Borgo San Donnino, benvenuto, che cosa ti ha spinto a scegliere questa squadra? Ho parlato con il direttore, mi ha parlato del progetto, dell'idea della società e io ho colto il balzo per arrivare qua perché è un'opportunità da sfruttare e sono venuto qua. Sei cresciuto nel settore giovanile di Atalanta e Fiorentina prima di tante esperienze in Serie C, quali sono i tuoi ricordi migliori? Un po' ovunque perché ho fatto un po' il Giro d'Italia e ogni società ti lascia sempre qualcosa, perciò speriamo che questa sia un'esperienza ancora migliore delle altre. La tua ultima squadra è stata la Lianese, che ricordi hai di quella esperienza e di questo girone? Ah, ricordo positivo perché comunque quando vai in un ambiente nuovo, comunque provo a lottare per il campionato, ricordo è sempre migliore, poi peccato che non abbiamo vinto il campionato, però è stata un'esperienza positiva. Secondo te cosa servirà al Borgo per arrivare all'obiettivo della salvezza? Serve soprattutto, secondo me, fare allenarsi bene e giocarci parti al massimo, poi il risultato dipende da tante cose, però l'importante è allenarsi bene. Grazie a tutti!